Il Consiglio Nacional Islâmico Timor-Leste apprecia il Presidente della Repubblica, Nia Sormutu, il Lidera NU, Muhammadiyah. Il Consiglio Nacional Islâmico Timor-Leste, Abdullah Inácio António Soares, apprecia il Presidente della Repubblica, Nia Sormutu, il Lidera Nandatul Ulamah, Muhammadiyah, nia Sormutu. Abdullah Inácio, attraverso il Presidente della Repubblica, Nia Sormutu, il Lidera Nandatul Ulamah, nia Sormutu, nia Sormutu, nia Sormutu, nia Sormutu, nia Sormutu. P Questioni. L Einit friendli, a legionale, si starà il Presidente dei DTL e, a legionale, i, la Sormutu, nia Sormut, la Sormutu. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.